E' partito da Alberobello il tour Musiche e Loci di Max Gazet, il progetto musicale vede il cantautore romano accompagnato dalle varie orchestre popolari italiane, quelle che di volta in volta scrivono il meglio del Genius Loci musicale. Ieri sera sul palco l'orchestra popolare della Notte della Taranta per una commissione di suoni davvero interessanti, le percussioni e il ritmo caratteristico della pizzica si sono sovrapposti alle melodie pop ed elettroniche di Gazet con gli arrangiamenti curati da Max Dedo. Grande partecipazione di pubblico che ha apprezzato le nuove sfumature dei grandi successi di Gazet che in chiusura ha anche interpretato due dei brani più famosi e amati della tradizione musicale salentina, la pizzica di San Vito e Kailifta. Questo è un progetto particolare, si chiama Musica e Loci, quindi è musica del luogo, è musica locale, quindi questo progetto nasce con la volontà di qualche modo di mischiare quelle che sono le culture tradizionali delle varie regioni con quello che è un repertorio, del mio repertorio. Quindi questa sera per me è una bellissima sorpresa, anche ascoltare queste canzoni come sono state reinterpretate dai ragazzi dell'orchestra popolare della Notte della Taranta, che sono delle eccellenze, quindi parliamo di eccellenze che sono in grado di ridare un movimento, una reinterpretazione in tutto, sia armonica che ritmica, melodica. Per cui abbiamo fatto le prove in questi giorni e siamo tutti molto soddisfatti e contenti di quello che è uscito fuori perché è una sorpresa, sono degli esperimenti, quindi c'è la curiosità di volersi sperimentare in altre situazioni e anche da parte loro secondo me c'è lo stesso entusiasmo.